Era una donnetta semplice, io l'ho conosciuta proprio in piazza per caso, lei insieme ad Alfonso Gatto, e Alfonso Gatto, che era amico mio, mi ha presentato questa Elsa Morandi. Io non è che sapessi molto di Elsa Morandi allora, poi ho scoperto che era una grande scrittrice, soprattutto quando ho letto la storia. E quello che mi colpì di Elsa Morandi era la semplicità della persona, una persona molto semplice, alla mano, e poi ricordo che vestivo in maniera molto sciatta, non era molto curata, avevo questo fazzolettone in testa come le massaie sull'aia quando si va a trebbiare. Poi ebbe la fortuna di intercettarla ancora una volta a Massafra, quando siamo andati a girare le scene sulla Galilea, perché furono girate lì a Massafra, nel vecchio centro storico di Massafra, e io di ritorno dal set ho visto in una porta aperta così di un vecchio frantoio stravaccate delle persone, ed era Elsa Morandi e Alfonso Gatto insieme a un altro apostolo, che stavano a riposare perché quel giorno c'era un caldo tremendo, oltre 40 all'ombra, loro si stavano riposando. E io ho avuto la presenza di spirito, di mettere fuori, nonostante il sudore, la stanchezza, di mettere fuori la macchina fotografica, di fare uno scatto in questa posa così spontanea che mi è riuscita una fotografia bellissima, dove c'è Elsa Morandi sulla sinistra e Alfonso Gatto sulla destra, che si ha lanciato sui fiscoli delle olive. Ed è uno scatto bellissimo che è inserito in questa mostra itinerante.